appunto perché si voleva impedire anche di pubblicare eventualmente sulla stampa l'esito di questo procedimento o anche l'esito di eventuali ipotetica transazione che sembrava anche praticabile se invece poi potete spenderla come ovviamente ritiravate opportuno fare. Quindi entrambi eravamo in linea teorica disposti ad accettare la proposta del 11, però noi invece non possiamo rinunciare a questa condizione, ovvero quella di impedire, di mandare la stampa e poi non fare nessun commento. Quindi loro hanno voluto precisare questo, io ho precisato che questa è una condizione praticamente impossibile da praticare perché ovviamente se gli otto citati si fossero anche tenuti a questo accordo, ma gli altri 45 invece che sono parti estranei potevano fare quello che volevano di quel verbale, se non è che sia necessario... E quindi il giudice ha trastenuto la causa in decisione e molto probabilmente dicerà il pomeriggio in questi termini, dichiarerà cessata comunque la materia di contendere perché loro hanno anche dichiarato che da due o tre giorni è avvenuto meno il blocco, io ho dichiarato che secondo me non è mai esistito, comunque il dato di fatto è che oggi non c'è e quindi nei ricorsi cautelari come questo il pericolo deve sussistere anche al momento della decisione e quindi siccome l'hanno dichiarato che il pericolo non c'è più perché il blocco da tre giorni non c'è, secondo la loro opinione, il giudice si è diventato anche retroattivo dicendo che c'è stata la materia di contendere e quindi la causa è stile. A quel punto voi avete mani liberi di poter fare con le pericolo sul giornale. Certo, non solo, ma attualmente anche di poter lavorare insieme anche con gli altri. Questo non lo so. No, se il giudice lui fa una simulazione, se mi penso quasi una tricola, ci sta tutta. Il giudice si andrà in quella voce e va lì, vuol dire che ognuno di noi poi spende quella cosa, compatibilmente con chi lo vorrà fare perché è individuale eccetera, però insomma io devo dire un segnale non meritano, se va in questo modo diciamo di sottolinearsi di nuovo e poter rivendicare... Questo però è una cosa... Perché io non ho capito una cosa, il fatto del disarcimento. Se adesso, come dice lei, decade la... Si però non c'è una rinuncia da parte loro, cioè... Cioè, ma su che base poi possono richiedersi... Se non hanno venuto un disarcimento che non c'è stato... No, un disarcimento per i giorni che vanno dal 3 al 16, Quelli che loro non hanno detto... Quelli che loro invece ritengono... Lo so, lo so, lo so, vabbè, questa è la città di dimostrarlo. Ma no, io dico ordinare che dura anni, non dimostrare... Difficilissimo. Direi che noi ci dobbiamo aggiornare per forza, appena i tempi... Se oggi lo scrive, ma è domani mattina, lo so. Io appena lo so ti lo consiglio. Quindi ci mettiamo in sintonia, poi ci vediamo... In quel momento, se è così, abbiamo detto che a decidere... Come in troppo... Con quella sentenza... Con quella sentenza, poi tu lo dici come vuoi, ecco.